Fenne Picisle Udine Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci a consueto appuntamento con lo sportello pensionati, vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi. Oggi abbiamo la trasmissione tutta al femminile, io sono molto contenta, abbiamo Flavia Blasic che fa parte della segreteria territoriale dell'FNP Cisle, abbiamo Liliana Della Rovere che fa parte appunto dell'FNP Cisle di Udine. Buon pomeriggio, grazie per essere qui, tanta carne al fuoco oggi perché ci sono tante, anche se non ci sono novità definitive per quanto riguarda le nuove possibilità, i nuovi tipi di pensionamento, però c'è carne al fuoco, qualcosa si sta muovendo, però ci sono voci che corrono, che si rincorrono, si torna indietro su determinate, e staremo a vedere, dovremo aspettare il bilancio per capire. Per capire effettivamente. Sì, non si sa ancora niente perché appunto tacciano molto e quindi stanno molto discutendo. E posso immaginarmi anche come vi sentiate, no? Quando vi vengono a chiedere indicazioni. Eh sì, perché dare un consiglio è molto difficile perché in questo momento non sapendo che cosa decideranno è difficilissimo anche. Ecco, per il momento dovete muovervi con quello che avete in mano, no? Sì, sì. Direi di parlare anche di tematiche di grande attualità. Green Pass ad esempio, con Flavia, no? Sì. Green Pass, poi la proposta anche per quanto riguarda le case di riposo. Cioè ci sono tante proposte in piedi anche da parte del sindacato? Sì, allora diciamo subito che si è appena concluso a Roma il G8 salute, il G20 salute. G20 salute che si è svolto dal 5 al 6 a Roma nei musei capitolini con i 20 grandi del mondo. E la sanità praticamente è stata una tematica molto dibattuta a partire dalla salute mentale. Dobbiamo dire che questo è un argomento che si è affrontato per la prima volta a livello globale proprio in una condizione post-Covid perché il Covid ha creato dei disagi mentali notevoli dalla sfera infantile diciamo all'età adulta e anche all'età senile che è proprio quella che riguarda la nostra condizione di anziani. Dobbiamo dire che purtroppo l'isolamento, la paura di ammalarsi, i disagi derivanti dalla perte del lavoro, il fatto di non poter avere dei contatti umani, sappiamo benissimo anche la condizione delle persone anziane nelle case di riposo, nell'RSA, dei malati negli ospedali e tutto questo ha creato un aumento dei disagi mentali. Dobbiamo dire che per la prima volta si è considerato che la salute mentale è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un paese civile perché effettivamente dobbiamo dire che soprattutto negli ultimi vent'anni il problema non è mai stato affrontato in maniera efficiente ed efficace perché sono stati tagliati finanziamenti ma addirittura sono stati anche soppressi dei centri di igiene mentale, si è tornati alla ospedalizzazione e quindi bisogna ripensare, ripensare, questo tipo di sanità deve essere ripensato e deve essere anche sviluppato con un'altra formula pensando ma come anche per tutta la sanità, ad una sanità di prossimità e a delle cure di prossimità, a domiciliazione, ad interazione con tutti i settori della società civile, tra l'altro dobbiamo dire che noi in Italia eravamo stati pionieri perché con la riforma Basaglia, una riforma Basaglia che era stata copiata un po' in tutto il mondo ma diciamo che i tagli degli ultimi anni che sono stati dettati solo da principi di austerità, di risparmio eccetera hanno prodotto dei danni che il Covid ci ha sbattuto proprio in faccia in tutte le sue dimensioni. Poi è stata considerata una formula della salute globale nel senso che il sistema è stato considerato nella sua globalità cioè esseri umani, animali e ambiente perché da questo insieme che deve costituire la salute pubblica deve trarre sviluppo una nuova condizione mondiale che deve tener conto proprio di questi elementi. Poi c'è il problema fondamentale che è quello della vaccinazione e sappiamo benissimo che purtroppo il 75% dei vaccini è gestito da 10 paesi nel mondo mentre sappiamo benissimo che in altri paesi i tassi di vaccinazione sono ridottissimi, 10-12% ma addirittura in certi paesi africani del 2%. Sì, in alcuni paesi c'è chi non vuole vaccinarsi, c'è un aspetta di popolazione in altri paesi invece ci sono persone che chiedono di potersi vaccinare e non hanno i vaccini a disposizione. Qui vediamo un po' le differenze incongruenti. Diciamo che le indicazioni uscite da questo meeting sono state quelle che bisogna garantire la vaccinazione a tutti perché non deve essere il vaccino un beneficio dei paesi ricchi ma deve essere messo a disposizione di tutti. Ma la sanità nel suo insieme deve essere dettata da principi di universalità, cioè tutti quanti devono avere una condizione di salute paritaria, cioè le persone abbienti, non abbienti, ricchi, poveri, le persone che hanno un colore di pelle diverso eccetera. E quindi queste sono indicazioni che sono uscite da questo meeting e di cui Draghi dovrà tener conto quando andrà a fare quella riforma sanitaria e noi sappiamo bene noi sappiamo bene come FNP che anche qua in regione la situazione della sanità è molto critica. Sappiamo benissimo quello che è successo anche durante i mesi estivi perché purtroppo gli ospedali sono stati affollati da personale delle case di riposo perché mancando il personale delle case di riposo dovendo fare le ferie hanno trasferito diciamo gli anziani più in condizioni più critiche negli ospedali con un aggravamento delle condizioni perché anche negli ospedali il personale sappiamo benissimo che è carente e adesso certo hanno assunto degli infermieri, hanno fatto anche le convenzioni con le strutture private ma stiamo un po' rincorrendo il problema perché forse è mancata la parte di prevenzione perché il Covid ormai sono due anni che sappiamo che questa condizione è grave e quindi anche la proposta proprio come FNP in regione è stato quella ma lo abbiamo detto, torniamo a dirlo continuamente, di una medicina di prossimità, di un'assistenza vicino agli utenti e tutti quelli che non vogliono essere ricoverati devono avere gli stessi diritti e poter usufruire di un'assistenza a casa. Gli interventi economici in sostanza per l'assistenza domiciliare pari a quelli che vengono erogati per entrare in una casa di riposo. Per le persone ricoverate nelle strutture perché questo deve essere e questa è soprattutto la richiesta della CISL perché effettivamente tra l'altro abbiamo sempre parlato di problemi delle case di riposo, abbiamo sempre detto che istituzionalizzare la salute pubblica non è bene, lo abbiamo visto col Covid, abbiamo visto quello che è successo, quindi bisogna ripensare ad una forma di assistenza alle persone anziane, alle persone che hanno dei problemi anche di Alzheimer, di demenza senile e questo comporta una riforma che è tutta di là da venire con naturalmente maggiori finanziamenti che devono tener conto di assunzioni di personale che deve essere non solo infermieristico ma deve essere anche, deve prevedere un'assistenza psicologica, deve prevedere un'assistenza sociale, tutta una serie di servizi che devono andare in una direzione diversa da quella che si è tenuta fino adesso. Bene, io a questo punto passerei invece la parola a Liliana per parlare di pensione. Abbiamo detto ancora le idee chiare non ci sono, dobbiamo aspettare praticamente il bilancio per capire verso quale direzione intende andare il governo, anche perché sappiamo che quota 100 non ci sarà più, anche se rimangono delle resistenze, c'è chi continuerà a sostenere Ma parlare di quota 104, 38 anni di contributi e 64 di età, anche questo, però non ha avuto ancora seguito quindi ne è stato parlato ma non è stato deciso nulla. 41 anni di contributi hanno detto assolutamente no L'unica cosa che si è potuto magari neanche discutere, ormai che sono quasi tutti d'accordo, è per l'opzione donna che sembra di sì che venga prorogata o l'ape sociale Anche se in un primo momento sembrava che nemmeno opzione donna, no? No, infatti dicevano che costava troppo perché andando presto in pensione nel lungo periodo il costo era più elevato Ma anche in questo caso le notizie si rincorrono, no? Sì, sì Perché fino all'altro giorno sembrava non si toccasse, poi è uscita la notizia, via anche opzione donna Adesso tu mi dici le ultime ore, no? Che dicono di sì che la prorogheranno Che la prorogheranno Quindi già lì, sì, già sembra abbastanza sicura la cosa Poi c'è l'ape sociale che sembra che è quella che la prorogheranno Adesso dovranno però forse fare qualche piccola modifica per le categorie gravose che devono inserire Perché appunto 63 anni è già una buona età Però appunto devi aggiungere gli anni di contributi O 30 o 36, adesso bisogna vedere che cosa possono toccare, cosa possono decidere Poi un'altra cosa, parlavano adesso ultimamente dei 64 anni e 20 anni di contributi Però questa cosa qua c'è già come contributiva Quindi per quelli che hanno iniziato a lavorare dal 96 Nella nuova legge diciamo della 335 del 95 C'è questa anticipata diciamo di riferente a 64 Però è legata sempre al discorso dell'importo Perché se non raggiunge 2,8 del segno sociale Quindi 1.287 Non viene liquidata Quindi già anche questo è un impedimento Quindi non è che 64 e 20 anni io te la do lo stesso No, assolutamente andiamo a vedere l'importo e l'importo non ci siamo E quindi viene spostato al 67 Quindi è una formalità diciamo quella di dire 64 Che dopo la fin fine saranno 67 E già questo anche sarà una nuova discussione Adesso vediamo che cosa riescono a modificare Diciamo se hanno deciso qualcosa Però non si sa Perché anche voi come operatori vi trovate in difficoltà Esatto Perché quando vi chiedono che cosa si può fare Che cosa non si può fare A parte che ci sono gli uffici dedicati Però come FNP Soprattutto nel tuo caso Che hai lavorato una vita appunto in IMS L'unica cosa sicura è 42-10 mesi E 41-10 mesi Che resteranno fino al 2026 Ecco l'unica cosa che sappiamo di sicuro Questa non viene toccata assolutamente Quindi tutti quelli che vanno verso l'anticipata Con i 42-10 mesi Vanno tranquilli Perché fino al 2026 Se maturano il diritto Sono tranquilli Sì sì quindi 42-10 mesi per gli uomini 41-10 mesi per le donne Sì quindi questo è un dato di fatto Quindi questo è tranquillo Sicuramente non si tocca Non si tocca esattamente Quindi su quello è una sicurezza Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità Vi ricordo che se volete potete intervenire Inviandoci sms Solo sms E tra l'altro ne sono già arrivati parecchi Daremo poi le risposte Al numero 351-570-5687 Oppure se volete parlare con le nostre ospiti Dovete telefonare allo 0432-573517 Ci vediamo fra poco Rimanete con noi Ed eccoci nuovamente in studio Cominciamo con i messaggi che sono arrivati Donna anni 60 31 di contributi Lavoro aziendale Quanti anni devo lavorare ancora? Grazie Dunque 60 anni di età 31 di contributi Potrebbe fare ancora 4 anni E andare con l'opzione donna Però bisogna fare anche un corteggio Quanto li potrebbe venire Perché l'opzione donna è contributiva E poi naturalmente Se la mantengono Se la mantengono Poi l'opzione donna Anche la finestra di 12 o 18 mesi Quindi non diventano 4 Ma diventano già 5 E la cosa prima che arriva A questo punto è la vecchiaia A 67 anni Quindi deve lavorare ancora 7 anni Perché a parità Tra l'opzione donna che prende di meno E essere quasi vicina alla vecchiaia Li conviene tenere Stringere i denti Arrivare nel 67 Mia madre ha iniziato A versare i contributi Nel 1997 E oggi ha versato 18 anni Con un'età di 65 anni A novembre I sindacati mi hanno detto Che deve aspettare 71 anni Comunque vada Quindi le conviene Continuare a lavorare Ancora due O aspettare i 71 anni Chiedendo la Naspi Grazie Simone Anche questa è una situazione Perché qui parla Sì è un pochino Un po' controversa Perché Che forse sarebbe meglio Telefonasse Per avere confronto diretto Per spiegarci bene Comunque Se è cominciato a lavorare Nel 97 Rientra nella nuova normativa Quella della 335 Che potrebbe andare con I 64 E i 20 anni di contributi Ma non li ha i 20 anni Quindi le deve completare Però c'è sempre Il discorso dell'importo Che deve essere 2,8 Della segna sociale Per i 64 Allora andiamo Incontro ai 67 Però nei 67 Oltre i 20 anni Contributi Completando i due anni Che gli mancano Deve arrivare 1,5 Della segna sociale Quindi a 6,89 Quindi Se non arriva All'importo del 6,89 Va per forza 71 Quindi deve decidere Dice completo due anni Dopo magari non vado in pensione Meglio che me ne sto a casa Perché bisogna vedere Anche le condizioni delle persone O se ha il lavoro sicuro Eccetera In tutti i casi Il sindacato deve aver fatto il conteggio Visto che non arriva A queste 6,89 E ti dice Mi conviene stare in Naspi Voi cosa mi consigliate Beh per andare in Naspi Prima deve licenziare Il datore di lavoro Quindi chiaramente Deve licenziare Dopo lei sta a casa Quei 18 mesi Può stare a casa E quindi completerebbe Quasi 20 anni In tutti i casi Sì ha ragione il sindacato Può andare in 71 Perché si vede che l'importo Non è 6,89 Più basso Qui Sì Prego Prego Flavia No no Sì Così Giusto Eh sì Ecco Qui mi chiedono Se è possibile avere Dei riferimenti telefonici Per contattare Sia voi Che Chi è venuto La scorsa settimana Ecco Che ha partecipato In trasmissione Ecco Per parlare Con voi Dell'FNP Perché tanto O trovate uno O trovate l'altro O c'è uno O c'è l'altro Insomma Fate a turno No Sì 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 Ben tutti L'altra volta Chi c'era? C'era Mularo Chi c'era? No c'era Silvano Dentesano C'era Dentesano Sì Quindi mi chiede Sì c'era Mularo Mularo e Dentesano Sì In via Caterina Per Cotto Quindi il numero FNP pensionati Via Caterina Vediamo se È una telefonata pronta Sentiamo chi c'è in linea Pronto Buonasera Con chi parliamo? Buonasera Signor Franco Prego Sono stato Ho 60 anni Ho già i contributi Pagati Per la pensione Anticipata Sì Posso continuare A lavorare O mi conviene Stare in pensione? Aspetti Non abbiamo capito La situazione Cioè Lei ha Adesso ha 60 anni Sessant'anni Sì finiti ormai 60 Sessanta Sì E quindi Lei Ho Ho i contributi Pagati Tutti Sì 42 Anche se ho fatto Due Mobilità Naspi Disoccupazione Ma quanti anni Di contributi Chiedono qua Giustamente? Eh no 43 O più Ah bene 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 Sì Volevo sapere Se Potevo continuare A lavorare Sì E tirare La pensione Sì perché Con 42 anni 10 mesi Lei Sì avrà la pensione Anticipata Non c'è nessuna Trattenuta All'epoca Però Deve Cessare Un mese O due mesi Diciamo Dopo riprende A lavorare Ma non Deve fare Un intervallo Di tempo Diciamo Tra la pensione Sì perché Se no Non le viene Erogata la pensione Se continui a lavorare No? Sì Quindi lei Finisce di lavorare Prende la pensione Dopo uno o due mesi Riprende a lavorare Quindi lo può fare Senza nessuna Trattenuta Trattenuta è qualcosa di No non ci sono più Le trattenute Lo erano fino al 2003 Adesso non ci sono più Sì perché dopo Potrei tirare la pensione E la vostra paga Sì Sì esatto Dopo con la Con il 740 Sarà una bella volta Anche lì Quello sì Sull'IRPEF Non tanto Sulla Sulla Contributi previdenziali Tanto è l'IRPEF Che assommando la pensione Più il lavoro Lì va Uno scalione Più alto Quindi viene a pagare Un momento più tasse E questo è il discorso Per fare una trattenuta Sulla pensione O no? No la trattenuta Sulla pensione Non viene fatta Quando fa lei 730 Quella volta Le danno la risultanza Da pagare Dell'IRPEF E questo Ah Non si sa quanto è Però potrebbe chiedere Al datore di lavoro Di applicare L'aliquota più alta No? Di maniera che Se lui ha una aliquota Del 27 L'aliquota massima Potrebbe dire Sul lavoro dipendente Mi applicate L'aliquota del 27 Di modo che dopo Sommando le due cose Magari non va a pagare La differenza No? Sì Ecco in questo modo Sì Sì Va bene Quindi al datore di lavoro Chiederà di non avere Né detrazioni fiscali E di avere L'aliquota massima IRPEF Allora in questo modo Anche sommando I due I due Certificati unici Non andrà a pagare di più Sì 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 Si ricordi un'altra cosa Che tutto il periodo Che lavora dopo la pensione Può chiedere Un supplemento di pensione Che va a sommarsi Alla pensione Quindi deve aspettare Cinque anni E tutto il periodo Lavorato dopo la pensione Può chiederle Che venga aggiunto Come contributo Della pensione Sì Come contributi versati Sì Perché avrei Mi sento ancora giovane Abile Come si dice Bene E lei si sente di lavorare ancora Sì Mi sento ancora di lavorare Se trovo un posto Adesso prendo il rado E via Bene Almeno fino a 65 Dai Dopo Sì esatto Però anch'io Almeno fino a 65 anni Sì Ancora 5-6 anni Ma certo Un bel ragionamento Se lei si sente di lavorare Se è in forza Non so farmi in giro Certo Bravo Bravo Bene Grazie a voi Grazie 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 per aver chiamato Ciao Arrivederci Nandi E cosa dite ragazze Continuiamo con le I quesiti Con i quesiti Percepisco assegno ordinario Di invalidità e lavoro Vorrei sapere se in caso di mia morte A mia moglie Aspetterà la reversibilità Grazie Paolo Dunque Assegno ordinario di invalidità Sì Con il lavoro Avrà la trattenuta Ben Sì questo Perché sono le due cose Sono insieme a una trattenuta Però c'è una scadenza Perché ogni tre anni Viene rivista Diciamo L'assegno ordinario di invalidità Però se lui Dunque in caso di sua morte La moglie prenderebbe Non la reversibilità La pensione indiretta Perché lui risulta come fosse Un laboratore dipendente Perché È ancora attivo Diciamo Perché dura tre anni Questo assegno Quindi dopo Lui è un laboratore normale Non ha di nuovo la pensione Quindi la moglie Può chiedere la pensione indiretta E calcolando dentro Tutti i contributi Della pensione di assegno ordinario Più quelli che sta lavorando Passerei Abbiamo ancora Dei quesiti Però Vorrei sentire Da Flavia Anche un qualche cosa Sulla violenza di genere Cambiamo un attimo Argomento Sì Anche perché È stato Perché l'università Di Udine È scesa in campo No? Proprio Per sensibilizzare Contro la violenza Di genere Con queste panchine rosse Che verranno 23 mi pare Verranno Apposte Nelle varie sedi Dell'Ateneo Quindi una battuta Io so che Per te È un argomento A te È molto caro Questo argomento Sì Perché vengo Dal coordinamento Donne Naturalmente Resterò sempre Legata al coordinamento E purtroppo Vediamo Che i casi Si ripetono Ogni giorno Nonostante tutto Nonostante le campagne Anche l'ultimo caso Della ragazza 28enne Che è stata uccisa Dal vicino di casa Che abitava In un appartamento Che poi non si capisce bene Il motivo Certamente È una Una cosa Veramente Disdicevole Tra l'altro Hanno trovato Uno straccio Imbevuto di varecchina Nella Cioè Situazioni Veramente E che Si continuano Continuano A divenire Veramente inarrestabile E ogni volta Ci troviamo Come donne A indignarci A ripetere Le stesse frasi Sempre le stesse frasi Di indignazione Però Sembra Che ululiamo Alla luna Perché le cose Non cambiano Non cambiano Perché effettivamente Le leggi Antiviolenza Che sono In vigore Non bastano Proprio Manca Un'educazione Un'educazione Di base Manca Una Sensibilizzazione Sociale Manca Una presa Di posizione Da parte Dell'uomo Che deve Rendersi conto Che individui Della specie Maschile Hanno Hanno un grosso problema Un problema Un problema di aggressività Un problema Di violenza Incontrollabile Che porta A commettere Questi Orrendi Obrobriosi Delitti E la strage Continua Quindi è chiaro Bellissima L'iniziativa Dell'università Bene Tutte le iniziative Gli striscioni Le manifestazioni Però Finché Finché Non ci sarà Una presa Veramente Di coscienza Da parte Degli individui Di sesso maschile Che tra l'altro Sono quelli Che governano Il mondo Perché attualmente La maggior parte Dei governanti Sono di sesso maschile Finché Non prenderanno Coscienza Di questo Difetto Chiamiamolo pure Un difetto Di genere E Non prenderanno In considerazione Di poter Provvedere In una maniera Efficace Per arginare Questi delitti Non ne veremo fuori E comunque Dipende Dipende proprio Da un'educazione Di base Che deve essere A livello Di prima infanzia Cioè Dagli asili nido Questi sono proprio Esempi Anche quella Delle panchine rosse È un esempio Perché uno si chiede Perché E quindi Da lì comincia A educare Esatto Bisognerà cominciare Proprio Dalla prima infanzia A spiegare A spiegare Che non ci deve essere Differenza di genere Che ci deve essere rispetto Poi Vediamo benissimo No Ci sentiamo dopo Continuiamo dopo Andiamo un attimo In pausa Che c'è la pubblicità Ci ritroviamo qui Tra qualche istante Rimanete con noi Ed eccoci nuovamente in studio Sentiamo chi c'è in linea adesso Pronto Buonasera Con chi parliamo Pronto Pronto Sì Buonasera Noi siamo qua Buonasera Le volevo chiedere A una delle due esperte Lì Sì Per il fatto Della Della rivalutazione Della tensione E Sì Che 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 procedimento C'è Io sono da 4 anni Che sono in tensione E volevo sapere Come Come si Si fa Insomma È scaglionato Quindi se lei Si scaricava L'Obisem All'inizio dell'anno Sullo stesso modello C'è scritto come avviene il calcolo Perché è tutto a scaglioni E con percentuali differenti È un pochino lunghetta La spiegazione Quindi Adesso così in televisione È un po' più complicato Lei è riuscito a scaricare Sì Ma viene rivalutata nel tempo Diciamo No Sì nel tempo Sì ma le pensioni Fino a una certa cifra Perché fino a 1.400 euro Vengono rivalutate Le altre In percentuale Quindi ci sono le percentuali 45 Ci sono Non al 100% Se sono elevate Di importo Adesso bisogna vedere Che importo ha lei Di pensione Ma sui 1.300 Diciamo Ma Ma Viene rivalutata Automaticamente O Devo fare io Richiesta No In automatico Ogni anno Da l'Inps Quindi l'Inps Sa Quanto è La rivalutazione Da applicare Quindi ogni anno Viene applicata Ah ok Va bene Va bene La ringrazio Grazie a lei Per aver chiamato Buonasera Ho un problema È possibile vivere Con 90 euro Ogni 10 giorni Sono pensionato 90 euro Ogni 10 giorni Come è possibile Come è possibile Appunto Cosa vuol dire Vuol dire che prende 300 euro 270 Un'ivalità civile Evidentemente Perché quello Più o meno È l'importo Della pensione Bisogna vedere Appunto Cosa può fare Se può intervenire Nell'ambito del comune Adesso non sappiamo Neanche che età Questa persona Ha scritto solo così Qui non c'è scritto altro Quindi Si è da Sì È da vedere Da valutare Bisogna che si faccia Diamo il numero di telefono Dall'ora della Della CISL Che è 0432 Ma eventualmente Vi lascio anche il numero Qui del cellulare Se lo volete contattare Non tanto ce l'abbiamo E quindi lo contattate Siamo purtroppo Già verso la fine Io so che Qui ci sono ancora Dei messaggi Ma al limite Risponderemo La prossima settimana Perché ormai Non riusciamo Perché ci tenevo tanto Ci sono tante richieste Almeno dare Un'indicazione Anche ai neolaureati Anche ai giovani Che stanno lavorando E che stanno pensando Di Praticamente Riscattarsi La laurea Perché mi pare Che adesso Il momento Sia abbastanza Propizio Sia abbastanza Favorevole Perché negli anni passati Era più caro Era molto più Perché c'era il metodo Tradizionale Che proponeva Con riserva matematica E con reddito Ultimo reddito Quindi venivano Delle cifre molto elevate 60.000 80.000 Quello che è Adesso c'è questo Che è uscito nuovo Da 2-3 anni Il riscatto Agevolato E quindi Si può Riscattare Gli anni di università A un costo Secondo la 2,33 Di un minimale Corrispondente A dei commercianti Che è di 5.264 Per anno Da riscattare Quindi se sono 5 anni Sono 26.000 euro Se sono 3 anni Sono 15.000 euro Si spicci dopo Però L'agevolazione Sta nel fatto Che può essere pagata In 120 rate Mensili E se uno non lavora Che vuole riscattarsi Potrebbe farlo Anche i genitori Per conto suo Quindi se uno Non ha nessun periodo Di lavoro I genitori Possono riscattare Invece sua Lo fanno appunto Con questo Agevolato Perché è molto basso Come importo Quindi guadagna 5 anni di lavoro Quindi un mese Praticamente te lo fai scalare Ogni mese Si Puoi pagare ogni mese Puoi pagare ogni mese Esattamente Quindi 120 rate Sono 10 anni Quindi va scalato Dalle tasse Perché se uno Sta lavorando Logicamente Lo scala come Contributi previdenziali Quindi lo toglie Come reddito intero Se invece lo pagano I genitori Va al 19% Come oneri deducibili Quindi sono questa Disversificazione Però guadagna 5 anni di lavoro Perché alle affetti Risulteranno come 5 anni lavorati Quindi l'importante È che non siano Coperti da contribuzione Perché allora Se in questo periodo Della laurea E ha preso contributi Si ha lavorato Si possono anche escludere Perché si può riscattare Quanto serve Per poter andare in pensione Quindi non è legato Voglio dire 3 più 2 5 Però uno Se gli servono 2 anni Riscatta 2 anni Se gli servono Tutti 5 Li fa tutti 5 Quindi questo È il vantaggio Siamo in chiusura Siamo in chiusura Purtroppo Il tempo corre Flavia Continueremo Le prossime volte Continueremo Le prossime volte Altrimenti Se diciamo tutto oggi La prossima volta Cosa diciamo Lasciamo o no Un po' di suspense Bene Non posso fare altro Che ringraziare Flavia Blasic Che ricordiamo Essere componente Della segreteria Territoriale Dell'FNP CISL Ringraziamo Liliana Della Rovere Dell'FNP CISL Sempre di Udine Grazie per essere state con noi Grazie anche a voi Per averci seguito Ci vediamo Mercoledì prossimo Alla stessa ora Arrivederci Arrivederci Buonasera Buonasera In collaborazione con FNP CISL Udine Grazie a tutti Grazie a tutti.